si pezzi co? co? come cazzo? cosa c'è? ma cazzo apro? ma cazzo apro? un maratron eh, non mi viene no, com'è? cos'è che ha scritto? no, no come si dice barattolo? eh, a breve tipo di dio dio? dio? io come? io volevo uscire l'altra parola però no, senza volere era andato in live di aver mai racconto con i cani facciamo no, aspetta, facciamo vici no, non mi direi che tocca a me, no scegli la parola e poi disegna velocemente hai un minuto di tempo puoi disegnare anche dei piselli è scelta giusto almeno cos'è lag? ston fai kick fai kick fai kick genera ma questo devo scrivere dov'è che devo scrivere la parola? in chat ah ok eh ho provato un altro aiutino son fai kick song fai kick song name song name aaaah non lo so che cazzo si porock ce l'ha fatto cazza fa ah ma ma mia sp sp farà giunali kattura finestra eeeh eeeh song name r clamp must not see woo cia l'ha fatta a complimenti look quindi facciamo cattura finestra Chef Eccolo qua Bene Adesso lo facciamo così Perché c'eri stiffer con me? Che cazzo è? Che cazzo è? Sto scrivendo E' facilissimo E' facilissimo E' facilissimo Abbinato abbinato Come si chiamava amico de De Pocchiolo E' un pochino E' un pochino E' un pochino Questa gente red Ah ok E' un pochino E' un pochino E' un pochino E' un pochino Ma ti fai do lo star E' un pochino E' ancora un epatino qua E' un pochino E' un pochino E' perde C'è uno Ciao 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 C'è un ragazzo ha fatto indaginato non è malato oh oh si se marano un po in boy oh Ehi, vabbè, questo è bellissimo, allora. È come Fischer Mandevrino, no? Sì, sì, no, è peggio. Questa è la messa di da sto schierzo. No, ancora lì, oh! Oh! Questo dovrebbe essere un mouse da pena. Oh! Ti è piaciuto il zombie name, cazzo? No, ma... C'è, l'ho capita subito. Oh! No, cazzo! Apollio! No! Apollio! No! È morta Apollio! È morta Apollio! Oh Dio! Negli occhi! Ah, l'avevo presa! Ah! 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 Olsen, guarda il tuo pc che il motivo c'è scatto. Uut! Ok, mana ma... No! Mi fegnò una cosa che fa tremmi. Mana, 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 mana! No! No, cazzo fa no! Cosa mi sto perdendo di là? È un'Italia! È un'Italia! ma per favore per favore mi piace di fare Vux ma per favore per favore e poi c'è la decubicacia e poi c'è l'Australia l'Australia che cazzo che cazzo che vuoi dire? che scusa i quelli no 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 Vux è uno che prende i ma oho oho vux è di compragliare ai ah non che cosa è l'Italia ah 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 dove c'è oh 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 no va prima ah ma doppia hyper doppia hyper no 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 ah 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 oh ah 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 BOOM! BOOM BITCH! Nel caso di Simi ci scrivi. Ehm... Ecco. No, anzi. Una scher- non una casa. No! Uff! Corri scappaci a Migrosi! Ehm... 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 Cristo! Cristo! Dio porno! Dio porno! Ehm... Guarda! Grande block noshi! E' lo sfondo! E' molto spazzato! Bellissimo sfondo! Ah! Per capire che gioco è! Senta! Non ce l'ho solamente game, giusto per... Ehm... Ha fatto un alberello! Il triccio! Era Minecraft! Ma come faceva l'essere Minecraft con Europa?! Ahahah! Io l'ho indovinato però! Io... Io l'ho finita verissima! E' facile da... Faccia una di... Faccia una di... Un uccello... Ma ce l'ho pure i Shirox! Ehm... L'ho... No... Che gratta! Eee... Pari grassa cosa? Innaffiata Da una pianta Fiat cosa? Ma infatti disegnare è un po' di cazzo Allora quel flower Un bellissimo fiorellino Piccola flower Chiedi che bellissima flower Ok Allora Disegna, segna No beh chiedo che a me Sì Sì La facciamo Ok io ce l'ho E' un booty Vabbè Cos'è che ti devo prendere? Cos'è che ti devo prendere? Qual è il senso di uno? No No cazzo pvp I disp I disp E' andato in bagno E' andato in bagno ha detto Pvp Pvp E' da dirti 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 Lampalini Lampalini E' da dirti E' da texas no oh no 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 apolion, apolion, apolion no, apolion. no, no, apolion. no non parlo no 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 ma fuori o no, adesso no ah 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 no, breccato non metti i colori ah, so close in realtà l'hai messa al contrario non mi fucchi ah cosa stane combinando? vediamo ah, mi esce quando sto up bastardo cos'è sta palla? è il google chrome ah ah ce lo stai facendo no ah eh è bravo ah è più o meno è più o meno ah è più o meno 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 ah sono palla va bene così siamo palla eh beh eh ma si non posso sto in più di qui oh che naso che schiva mamma no 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 oh 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 no ha breccato cazzo ok cos'è quella? eh eh sto arrivando sto arrivando sto arrivando oh allora vediamo sarà cos'è quella parte tutta del triangolo di geometria? oh c'è l'altezza e due batte l'altezza su tua madre ahah esatto oh no è ipotenusa non posso disegnare sopra un culo no non posso farlo eh bella drop the bait ma ti conviene con il danno extra ma sei vera scherzo ma hai messo no 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 eh 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 dark black no 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 eh che cazzo è già non dominato? eh non so disegnare i delitti ok ok una linea una line ma che cazzo? la la line la la line eh la la line la la line hai line hai line stiverla stiverla no non voglio stiverla io la guardo sotto ecco non dire l'ultima perchè devo vincere che cazzo vai vai adesso vi ho fatto tutti i punti hai già visto la super line schigo è choosing a world no quando fare la cosa sempre discord pollicione in giù ho vinto ho abbinato pivp ciao è la mia stanza no 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 aiuto perchè sei visti gli stronzi ma perchè sei uscito da no no ho visto un pollicione in giù l'ho spammato si ah no ecco perchè ho premuto voto e kick sei uscito no fatemi arrivare no sei finito vuoi fare i ping di puttana lo sai perchè tu sei giocato no no staccare no 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 fai riposta una cosa va beh ho evitato si eee 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 aaaah te ne ho asso eeeh giuri qua eeeh se ti capisco subito eeeh eeeh se ti fermo no no ma delle bombette su hai visto la di me Cosa freguerà la stanza? Bacurezza, bacurezza, bla 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 Cosa freguerà la stanza? Cosa freguerà la stanza? E' un personaggio inventato come cantordi? churches chi come vuoi chi sei? no ah 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 giù il libro che morto? eh ma come la si scrive? eh bella domanda ah 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 dai 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 nemmeno no dai palmana 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 no solamente grazie di aiuto tutti i punti vanno a plasma gianni brain ma quante silver hai chiuso? ok no ragazzi no no l'ho preso è ripo adesso esce tipo la parola coma e Urochi scrive è leale è vai vado rilli vediamo ritmo tutti ho guarità mettiamo il nostro jiren JIREN Jared ho guarità ok quello è sorre mucho варità 3 falle, schigo cagante. Claudio. Claudio. Non è la scurriccia eh. Lightning? Ciao! Lightning? No, sbaglio sempre Lightning. C'è scritto Lighting. No, non ho messo no pezzini. Ligma Shower. Lei aveva detto che è Lightning Shower. Per un attimo mi sembra Ligma. Ligma Shower. Spassiamo, spassiamo. Siamo giù. Siete su Scribble? Sì. Cioè io sto facendo PvP, Scribble, Cazzo. Io spoilerò le parole praticamente. Faccio du 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 du. Non è vero. 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 No, nice point. No, quanto come è squishy. Che? È squishy. Ah. Nice. Ah. Ah, la vita. Siamo raggiudiamo. È almeno che ero. È delocchio. È delocchio. È delocchio! È delocchio! È delocchio! È delocchio!! Oh 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 Ma cazzo sta andando Oh Oh Voglio vedere anche io Per finire il pipipi Cazzo Ma come cranzone disegnato Oh 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 Beppe Beppe Non è Beppe È perfetto, alla porta d'Arc Artemis La porta d'Arc Artemis hai capito? O ti hai passato con la L? No, la seconda L Sto arrivando, sto arrivando La vediamo Ma la L Ma la è affanculo dai No vaffanculo Ux si è spregato Guarda Chi è Kitty? L'hanno capito in 3 Eh Beppe Beppe Sei una carota GG MM RR Ah Sono le date Vai Il pionismo Un po' Ma… Non c'è un passo Mi sento la gomma È un pochino Ma manca solo… Dammiano Balanced Buoni Nooo, non c'è appare Non c'è lui Non è il sud Ne ha fatta pure bene No Abbinato, abbinato, abbinato Da complet Oh, non riesco a mettere l'altro Focco 5 punti Bastardo Non riuscivo a invertire No, per dire di scrivere la cosa, la camera di plasma Camera di plasma, cosa? C'è una bar La camera di plasma Cos'è la camera di plasma? Un bar Oh, ehm Non riesco a fare un cerchio Bravo Chi vola? Non la stava cantando Chi stava qua, tirando qua le strade? La roccia rosa Ok Non sono bravo a disegnarlo, non vedete Oh, bello, bello, vero? Ma che è, amico? Sono una leggete Che ho fatto male? Che è? Che ho fatto male? Che ho fatto male? Che ho fatto male? Che ho fatto male? Cosa c***o avete disegnato? È pelosa ragazzi È pelosa È pelosa Ma che funziona? Ma si rupa Ma che è? Ma ci siamo pervenne? Non vedi quanto era una pantera? E' un cane che vuole Ma che cazzo è questa roba? Dai il cappellino aiuta! Ah ok ok Speriamo un po' cosa state combinando Però non so, credo che si scrivesse così eh Ma è meglio io Cosa sarebbe qualcosa vicino all'Apple? Android? Comunque è androide Per mora di... Molto 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 oddio questa questa è una cazzo del ma forza la cazzo della bassa scriverebbe perché l'asperta 8 in quanti siete? 8? in 8 non posso entrare però sei riconosciuto da questo non è un pene ok via via ma perchè scrivi indicando di serie? ah no ma non indica si la prolunga un po' arrivo eh siamo full snare nooo ok allora questo è bellissimo no non fare il triciclo ti prego questo è bellissimo oh ci sono mi ha fatto entrare è un fantasma vediamo o cos'è quel coso al viso? è sicuramente SCRRRRRA un salice ru oh SCRRRRRA SCRRRRRA è un' arenia oh cazzo fa è bruttissimo skinny che cazzo è? no oddio che cazzo ha messo quel uff 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 mamma mia mamma mia disegna le cazzo bitch bitch anche allora come fanno volleyball anche uff che pro che bella palla quadrata tutt tutt matooo matoooo mat… sped uff 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 tutt Nooo perchè stanno quittando tutti quanti? Twitter! Ah, si ma... Senti, mi ha fatto male il disegno però Volei però La mailbox è dove metti le lettere, non è la lettera Eh, non è la lettera E' la lettera delle lettere Io l'ho capita quando ho visto la orta Ok, sono 6 e shit Perché... Molto... Madonna shit Ci stava quasi madonna shit che l'altro Come era? Era tipo... No, ne ha chiccato il muzzetto Nooo Non lo fermate Non fatelo Non fatelo Perché Youtube è squandacupis Ma tu che vabbè? No, di un cadere Ma c'è la nome abbinato Non è flopdisk Chitto in karma Non è flopdisk Non è flopdisk Un fiorellino al suo rumore E' il Pokedisk 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 Sicuramente è che vedi questo è il Palette Blitz che sta tirando Palette Blitz Sky No, no, no Non posso mettere un altro Pokedisk In basso, no? Questa è difficilissima Mamma mia Vai, vai Where's the sky? Mmm 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 Ok, quindi così Sì E' bellissima Eccolo ci arriva Ok 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 Big Dekinergy Quando mi dice L'avversario L'avversario sa La cosa ci puoi fare Ci puoi fare Ci puoi fare Col sale Vedi? Ci arriva la trame Te lo fa più P Aiuto Oh my god Oh my god E' così un po' Yes Ma 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 Poglie Big Cock C'è 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 Arrivata C'è 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 è una colpa vostra mi sono appenato no che non fa pvp c'è ribalti non so se ha detto che sei stupido schifo schifo che scorbio è il cazzo è stato è stato sarebbe una pancia quella il più che c'è dio vince metto polino chi è un voluto è una belly no aspettaci eh qualcuno ha messo l'ho perso dai è un belly un belly drop io l'ho detto vabbè sì è easy sto sommato ci si arriva certo che quella pancia lì sembra tutto tranne che una pancia sembra una persona su una persona tutto tranne che belli ho appinato ma cialdo non è figlio coglione ma cialdo non è figlio coglione ma cialdo è figlio coglione cialdo è bambino scusa è bambino ignorante figlio è sonno è sonno per maschio ed oltre per le fanciuline per le loli ebbè nessuno può salire cialdo il sforzo ce l'ho ma si con il nostro ma il link cialdo 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 dico No, no, da quando sto qua non ho ancora più Nooo, non si voleva Che fai sto alti meteori Ma non sto facendo alti meteori Non sto facendo alti meteori Cosa è quella roba? Sara? Ma che ti stai facendo dire da Damiana? Ti pari tale Ah Ghe? Menti le lettere Eh Stigo Vosca Ah beh, che forte quella è mostra Perché è per il baggatto come una mostra con il test E' una macchina! E' un gran'initio! E' un gran'initio! E' un gran'initio! Ma è morta di nuovo? No! Non c'è trampato qui No, non c'è trampato Te lo sta scrivendo, guardi Te lo sta scrivendo Non è con la... Come lo sta scrivendo? Come lo sta scrivendo? Ah, non sto capito Mi ha detto che il resto è un corpo Shadow? Dove non c'è chi? No, non c'è chi? Non c'è chi una linea? Non c'è chi? 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 Ah, so fluke. Ah, so com'è, adesso. È molto di nuovo questa. Ah, ok. Cari. Ah, aspetta! Come si chiama? Spacativo! Lo sto state facendo. Se lo vediamo. Papà! Cosa è sto quadrato io? È al plurale. No, è come al plurale. È al plurale. È al plurale. Che ti fai? Questo è al plurale scuro. Ah, no, non so. Iphones. Palmo. È al plurale più caldo. Allora. Eh, quale faccio questo? Allora, facciamo la pinta che c'è un brutto tempo. C'è un brutto tempo. Il brutto tempo è verde. Più giacido. Perché c'è il brutto tempo. È tornato Lightning. Ah. E poi qua ci sono tipo... Cos'è un cactus? Ah, non ha male. Ah, non ha male. Ah, non ha male. Ah, non ha male. Ma cosa? Ah, finga. Pinga. Bambinato. Il zizi. Ragazzi dai. C'è una... C'è una trapunta che scende dal cielo. Ma che è qua? Scusate, voi non conoscete Catrilla. Scusate. Eliminazione, no. È il ligno. È il ligno. Ah, quello è il tuo asco. Sì, sì. È un'altra punta perché non c'era. È proprio quello. È proprio quello. È proprio quello. Non c'è un'altra punta. È un'altra punta. Oh no! Cosa? Cosa? Aaaaaah Cosa? Ma che? Capitano America Cazzo Capitano America Guarda che sblossi ma stava per me Guarda sblossi Guarda sblossi Sblossi Cazzo che cazzo Cazzo che cazzo Cazzo Guarda uno Più Si Guarda 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 Ok Guarda I Il Il Eh si, però avrei giocato a Don't Star, poco osso, di nuovo. Eh? E lo sto usando sto Mastermind, che sta facendo... Zaaa, zaaa, zaaa! Ma è il segno di neve tanto di... Il ball. Oh! E io lo so, il ball. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Ecconeee. 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 Oh, no, bello. C'è un spazio. Bai, amo penso che non amico. Oh, no. Se vanno bene! No. No! NOO! Si, ci sono qui, ci sono qui. perchè il sismo invece è l'ultima ho fatto zzzzzzzz ti è comunque distrutta stanno qui play eccomi Ah, l'ho trovato, sta su Steam quel gioco, schifo. Cosa? Eh, Off Guard and Thieves. Ah, non l'ho trovato. Cos'è sto coso? E' un Krab, Krabbeadol. Sì, è lui. C'è un Krab. Perché non stai zitto? Krabbeadol. Krabbeadol. Si capiva che era un granchio, su. Un crumpo. Perché ha un occhio fisico? Non lo so, aspetta che io lo faccio meglio. C'è un occhiolino. Krabbeadol. Eccolo, adesso si, adesso è su. Ci manca adesso solo la mano sotto al mento, perché mi sembra quella Memele. Sembra la Smile. No, dovevi farci la mano sotto al mento. Volevo fargli buffi. Ah, peccato. Vuxial. Vai Vuxio. Uarida è il nostro caro amico. Eh, ok. Cazzo. Sai che tocca Vuxial? C'è una volta che ho un team giusto con carica. Ok. Allora. Sono Lux. Questa. Oh, arida. It's over. Cosa è? Un Broccolo? No. Che stracazzato. No. No. Lo so, lo so, lo so. È un Sagma? Ma per me detto Link, sto cercando la traduzione. Eh? Eccolo. Eh? My name is Ruth. Eh, Rud. Rudolf. Mi piace. Eh, è Boob. Boobs. No. È Food. No. Ma questa sarebbe quella linea nera nel cielo. È Linux. È Avast. 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 Cazzo fa? Che cosa hai scritto? Che? Ah no, inizio a dir! Che è inizio a dir? Eh, Damiano! Ragazzi, non hai detto il cazzo una settimana! Cos'è schigo? Daun, cosa sai? Io non lo scrivo! Vabbè, lo schigo! Dai, ora ragazzi! No, come ce l'ho fa! No, come ce l'ho fa! non posso entrare va vero ma cos'è questa roba? è che non posso più entrare perchè ha utilizzato il server ah no, può essere qui perchè ha utilizzato eeeh 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 ah ma che cos'è? ah eeeh ah eeeh ho capito si, ma qui pure io ah no e non è non è caraibi non è caraibi caraibi eeeh cazzo ne so eeeh beccati vieni poi gli da lei eh no no che vuoi dare eh no no che vuoi dare eeeh non vuoi eeeh non vuoi eh regà eeeh che cazzo è sta cosa dai eeeh 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 ma tiene ancora ma qua non l'ho ucciso ma cazzo tira un HP madonna vabbè eeeh 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 ciao 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 Ma che cazzo è sta cosa? Cazza fa? Ci sto provando a farla meglio che possa fare. Ehm, non lo so, è... Mokake! Anche! E che muta di me! Ehm, come si chiama? Ma che cazzo stai dicendo? 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 Cazzo? oh oh where'da oh oh first floor Ah, ehm... Tiro terra. Ah, c'è... c'è in Isaac, ok? Ah, grazie. Dodo. Eh? Grazie pochi. Parlo. Eh, eh, il basement. Il basement è... la... la cantina basement. Eh, siamo incerrato. Sì. Sì, è... puoi nel film, a me... muori, no. Tocca a te, Snee. Snatchi, disegna. Oddio, devo aprire la porta, dai miei. È vivo! È un... è un preservativo. Si è cabinato pure PPP, cazzo. Ciao. Capite che lo che cazzo è? Era... una roba incompleta. Fatto. Fatto, che culo! Grazie. Ah, va bene. Ok. E poi c'è la I. Sara, indovine. È facile, Sara. things like it... Allora, possiamo metterlo E' lo stato, è lo stato. México. Nimeo! È il Machico! Mh manca la 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 oh eeee che m'ho chia scatta ho fatto 5 lettere andau per 3 control no a me le gambe aperte, però vabbè ah, 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 ah ma come cazzo? che cazzo? no! normalmente in realtà non c'entra il cazzo ah, e vabbè, allora 30 secondi Pukki eh, ce l'ho già guarda sul libro sta colore ah guarda, andando allo schermo non mi sono venute tossi andando allo schermo con lei mi ha detto tutto, porto dio eh, eh, eh ah dan 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 da 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 no, eh, il cavallo non è dolè poi di natuavativa Ha fatto un Void Pilled nelle tappe Belle hai i miei disegni, vero? Oh, no! No! Oh, no! No, non ti do a mano! Cazzo di merda! Prendi il Void! oh cosa stai facendo laboratorio no smettila andiamo su leg of legend oh mio dio lega con lezzo google mi confondete la ma non ho tempo di disegnare che cazzo è? guarda quello sotto google drive ma non sono nei cerchi google drive no no guarda come spoiler ho io wow mamma potete fare nostalgia drive schicke is choosing a world uno due vediamo schifo cosa esce vediamo salendo di me madonna basta skip giù vedi vedi giù oh regani il caso sono due sono due sono tre ciao schigo e siamo a tre cazzo a pinotto che cazzo di modazione c'ha questo bambino che cazzo stai dicendo che cazzo stai dicendo ma avete fatto stanza voi a qualche parte ma avete fatto stanza voi a qualche parte eri ok vux c'è bB ah ok ok via i oh adesso vince perchè wux non ha disposto giusto me dai i punti pieni Oh, noice! What's the impact? Che cazzo è? Che cazzo è? Due, quattro, sei, otto, nove Ah, è fiego! Sperate che non si spavano il robot Sperate che c'è una guette che si chiama ultimo piano È una guette con il porto Ah, ok Non è ai, no? Cosa? Oh Oh, bello, bello, bello Damiano 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 Ah Cosa? Non mi viene neanche l'italiano No Eh, no Eh, no Non mi venino neanche l'italiano Eh, io ho scritto il primo pismo È tutto Come metterci il slot Guarda la carta Ah, è il libro Era il libro Ah, la carta Ah Cazzo qua Ah, è la carta Oh, ti ho gioco il ghiaccio Oh Che cosa c'è? Cazzo è girato Cazzo è girato Che cosa c'è? E' il libro Ma come ci è arrivato ancora? Qui non l'ha aprirso, vabbè T'ho fatto male sta schifo C'è ma non è giusto tutti i rocket E' ok, ti puoi mettere un po' l'acione per gli uomini, vabbè. Vabbè. Un po' Alla scuola. Alla scuola. Alla scuola. Che fai? Vabbè, vi aiuto. Che cosa è questo? Sono due le palle quadrate. Oh. Era petardo, vero? Eh, era. Mica, tu per faremi petarmi, credi, inanzi. Che cosa è che la cifonza fa? Che cosa è che la cifonza fa? Che cosa è che la cifonza fa? Non vorrei fare un capodanno, come sei. Se tu caccia di male, guarda il capodanno. Oh, non ho preso. Che c'è fai. Che c'è fai, che c'è la cifonza e poi la non vi convole mai da te, che lo dì. Non ho preso, ma, guarda. Non è più sfrutto o non viene con me, ma? Direttamente! E perché non hai fatto una cipolla? Ah, ma la mutande vi schifonza... ha vinto Damiano ha vinto Damiano com'è che si scrivevi? ma si chi è che ti ha marx? ma perchè? erote si vaffanculo esatto ho scritto la mucca di minecraft ah capi? già è vero il cazzo di scudo e neanche in broda si ma p***a ci devi ranccare porca p***a sto cazzo di me ah no ma che buon giorno ah questo è bellissimo ho paura non è tipo non è tipo venga la p***a è una p***a no ho il beto colore ho il beto colore siamo in due stiamo un po' alla rettardo fammi scrivere vabbè lo ehm aspetta quindi qua il pauso lo 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 è ok fatto 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 come cazzo cazzo? aspetta oddio ma quante cazzo di lettere sono? 8 e 6 questo è PORCO DION gigantesco ah le ho prendo un'immagine allora ok ce l'ho è PORCO DION si un coso un coso è un Hiper che fa tu? un coso è un Hiper che stupido così ok cosa devo dire? ok ok Che brutta l'hyper nuova del DOOM, brutta proprio, bruttissima, perché arriva l'altra, Damiano? Che cazzo è? Ah ho capito, è facilissimo, una cagata, se no che a me serviva una batteria all'inizio, Eh avessi bene, ah, eh avessi colori a poca, va in culo, l'ho capito adesso, ho tanti testi, non lo so, non lo uso io, bello, diciamo, tocca a me, tocca a me, tocca a me, e va bene, vai, E' un video di YouTube, è la musica che tiene questa, questa gifo sotto, cosa è la cipolla? Cosa è sta roba? No, no, non è my name jeff My name jeff. Dio Toni. Chi è? Ora? C'hai piedoni, che sa? No è fine, fa uscire la JetStore 새로운 il tuo oppure. Aspetta, oddio! No, aspetta, ah! E' suka! E' una cipolla! E' una mucca! E' una mucca! E' una cow! Ma sembrava un carcerato quel coso! Ma la coda non ce la fa? No, così era veramente tosto da fare! Ma che cazzo tosto? Era un carcerato era! Ma l'ho anche fatto che sorrideva! E' una gabbia! Ah, questo è un classico! Andiamo avanti! Cosa è schigo? Cosa? Ah, attacchiamo i panni! E' una gruccia! E' una stampea! E' fatto, 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 fatto! E' fatto stra bene! Oh, ma come? E' 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 Guarda! Guarda! Nell'armadio cosa metti? Scusa! Cosa metti in ero armadio? E' quella degli mesi di prima! E' l'ho completato! Dai! E' come... Fai da farlo dire che è perfezione, ragazzi! Abbinato, abbinato! E' una perfezione! Ecco, già che parte così! Ho fatto tanta roba! E' una perfezione, ragazzi! E' un c*****ro! È un c*****ro che fa una punza! E' uno c*****ro! E' uno c*****ro! E' uno c*****ro! E' uno c*****ro! C*****ro! E' uno c*****ro! C*****ro! Quello è un marketing! Ragazzi! E' uno c*****ro! E' uno c*****ro! E' uno c*****ro! E' uno c*****ro da fare! Ma cosa sta succedendo? Perché si è fermato. D'xtra Finanti Fatto, fatto, fatto. Un'ultima tropeia No, no, no. È giusto, è giusto. Non so l'ho tornato in Link soit ho fatto il caffettino ragazzi non è che è così vecchio qua caccia di vecchio mica ricorda che ti bastava fare uno stickman col brattone e degli schienari io farei la coso eh cosi ho fatto per l'anselipone ma l'ha capito da gnanza c'era il mentone c'era il mentone per forza no madonna no madonna stupido ciumbio di merda che palle sto ciumbio mi ha fatto spiegare un attimo cioè ciumbio di merda ciumbio di merda non c'è 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 come l'ho peccato come l'ho peccato come l'ho peccato che minchia è lo spaventa padre si ma metti quella cosa di oh bravo e vabbè 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 vabbassaculo è di fattac mica l'ho beccato proprio a casi ho detto non è che questo è quel mutonoide ad esempio era lui ah era ero ancora vivo fallo fuori fallo fuori Con... Con... Con on... Con on... Con on... Cos'è? Non lo fa... Non lo fa... Non lo fa... Non lo fa... Don... Ma è scritto con Don? Dico che lo face a Spiderweb Non lo fa... Ah, London! Ma c'è un tronca? Eeeeh... 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 Ma è un Spider... Ero ma ti ferma, ti ferma... Cos'è? Ero ma ti ferma, ti ferma... Eeeeh... Eeeeh... Ma cosa? Perché è un peccato? Madonna, non è vicino in me... Aaaah... Ah, vicino in me... Ah, vicino in me... Ah, vicino in me... Eeeeh... Tutto a posto, tutto a posto... L'avevi già scritto! Sponsumo che è troppo inutile... Mi può breccare... London Eye... Ma te... Che c'è il London Eye? Una ruota panoramica... Eeeeh... Ok... Io... Io ho scritto... Ma l'ho scritto direttamente in inglese... C'è che eravamo più voli... Eeeeh... Se ne aspettate... Esatto! Eeeeh... 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 Andiamo su LOL? Ma io ho scontato... Andiamo su LOL, dai! Ma questa... Eeeeh... Pazzo di criter! Aipera! 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 Cazzo di ciung! Aipera! Giù di merda, Aipera! Ma come cazzo l'ho preso! E me che sembrava un gatto! Perche è ritardato sto ciunggo! E... E me che sembra... Aaaaah! 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 Se cosa? Eeeeh... Eeeeh... E' un animale che è... E' un meme! E' Love Lion! è la madonna, che fallo, giungo di me, in tre ore forse non lo so proprio incapace ci sono arrivo no, sono arrivato secondo ciao basta così, vado su liga flage ah, liga flage qual è su liga flage addio ragazzi ma io ho disegno super bene non mi puoi dire che ho disegno male vux, vux, andiamo su liga flage è una china china tao o gioco a brain out o gioco a don't starve non possiamo fare qualche gioco insieme non dobbiamo fare fortnite cosa facciamo? batterle e fare batterle no, devo fare batterle per me va bene, se vuoi fare batterle ti facciamo batterle per me è un gioco bellissimo facciamo batterle? se non ti rompire dopo una partita vux, dai perchè dovrei rompermi le palle dopo una partita? e l'altra volta le palle ma l'altra volta era differente non mi ero rotto le palle era andato perchè non li sentivo bene si ah no eh vedi si allora finisco questa poi vengo su batterle ecco così da 20 oh ci sto con cowall va bene così da 20 spettatori arrivo a 5 perchè batterle non ti capisco va bene ma l'hai vissuto si tipo tipo vabbè vabbè è arrivata da qui O è arrivata da qui bel da qui amo di il il ha No Oh Oh No noo momenti come la mia va la parte oh open Ho fatto due e ho perso di uno. Eh? Mi sono iscritto con tre mie diverse, allora ho la beta di uno. Oh, io ho solo un po' uno. Però effettivamente, eh, ma... Deve solo una mail registrazione al gioco, ovviamente, no? No. No? No. Hanno messo lo shop in personale. Eccolo. Eccolo. Paine? Si? Hai sentito? Si, no, l'ho so. Che cosa l'ha beccato qualcuno di buono? Moop. Ma che cazzo sono questi BG? Oh! Ma che cazzo... Cazzo, ma tu devi spammare. No, spammare. Oh! No, vabbè, l'ho beccato pure io, lui. Se vuoi, vengo qua. No, c'ho fatto. Eh, che da solo mi rompo il cazzo e quindi... Ho un culo. Eh, mi trovo a fare void. Devo fare... Non dovesse amare il gioco o non ha palla, però, eh? No. Nessuno. Vai Kavoru! Vai Kavoru! Vai Kavoru! Vai Kavoru! Kavoru! Shotta Kavoru! Lunare fa 130k Kavoru! E' la luna, ragazzi! Ma perché poi non metti scusa? No! Sì, c'è un po' di musica... E' un po' di musica... Perché prima lo tenevo, però... Mi trovo meglio con... Furlo. E' la mia madre sarà a buco. Ho perso il match perché non stavano a buco, però la tarpione non l'avevo avuto. Dammi la tristina, dammi la tristina. No! No! Attaccava! Ah! Ma non posso mancanare nella live, però... Ah! Ok! 2.0! Oh! Oh! Ok, la brisca! Come on! Questa c'è la live! Non lo so! Però è morta! In qualche modo è morta! Ah, ma se per esempio muo... Sta uno nella platform di sotto, no? Ok, la tiro a quella... E' uscita in nessuna condizione a sé, percorso... No, basta! Dimmi! Se è giusto il gioco! Ma se te lo conosco non lo so! Che in realtà non ce l'ho capito! Ma... Non mi hai detto! Eeeh... Oh beh, aspetta! Ok, allora acquisto! No, vabbè, vai! Ho acquistato! Per un 100%racque... Eeeh... Uppu! 3.0! Vai via via! Beh, hai già provato la modalità nuova? Che faccio con la... Provarò la butterfly, o continumo su... Qui tacce! Tu lo vuoi fare, butter, o vuoi fare qualcosa? eh non so che fare cosa abbiamo? a crash bash l'abbiamo finito e volevo fare x adventure però che è troppo bello eh se non ti va, non si fa come cazzo possiamo fare? non ci vediamo io non so che fare se no dovremmo andare su fortnite non ci vuoi se perchè possiamo giocare a minecraft tutti e due altrimenti cosa abbiamo? noi facciamo schifo perché siamo dei lupissimi io sono lupissimo supporto almeno su battere siamo riusciti e allora aspetta provo a battere almeno vado in giungla 3v3 dove su battere che adesso arriva facciamo le live brutte facciamo le live brutte anche la live che figata quindi che si diventa famoso battere ma mamma ah hanno messo aurelio solo aurelio guitar solo hanno messo dei quasi frequenza che cosa io voglio un uomo quello nuovo è arrivato a fine agosto sembra molto di due ma è soprattutto rotto non è tutto questo che figlio ah cresca pox di nulla la Q di di nulla no la Q di è di nulla si una specie che cazzo sta succedendo aspetta un attimo che cazzo sta succedendo aurelio aurelio ma l'avevate visto il tear box punto io che quanto sia il bollente ok ci sono ma tu ci sei io forse sto facciando Baffer che sta facciando è anche una bella peccia tra l'altro per lo dire si hai visto qua no aurelio 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 perchè vorresti iniziare a giocare no merda l'ho visto l'ho visto l'ho visto il bfehle che cazzo l'ho visto e l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho scappato il mio è carino aurelio dove cazzo ci vedevano la roba quindi per pagare le viste per cosa hai mi sponsoro a mi sponsoro arrivo tra un attimo intanto oddio che bello guarda croc quanto è bella la nuova cosa appena poi definito croc croc la nuova skin mamma mia che bella ho oh no Sono arrivati vero i sicilio? Ah devo guardare un attimo la consulta A me sembra ce l'ho da un bel po' eh Si Sono una mezza e sei mentre vi parlo 20 secondi e partiamo L'ho detto? Uno Vai Non ho già questo colore Comunque vuoi vedere un po' la telecamera dove lo devo mettere? Com'è che ti chiami su battle right? Sì Ehm... Sì Eh ma... Ehm... 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 Ambiando già, stiamo mettendo le... Ehm... Andiamo, già... Ehm... 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 Da vinciamo? Ehm... Ja... Ho messo la speedy build Vedi? Vedi? Sono anche rispetto come Sunny Torni qui I venti Sì, almeno puoi andare in mezzo. Vuoi stare in mezzo? Non vado giù io? Ma non sei a rise in mezzo? Sì? Mi sto qua, dai. Ma, vabbè, sono confuso. È sotto, in mezzo e sopra, no? Sopra la giungla. No, sopra la giungla. E quindi si sta due box? Si sta o due box o due. In base al personaggio che sia. Sì, ci siamo. Aspetta, dimmelo quando iniziate. Io c'ho di Assur qui. Niente che manca il frame rate. Cazzo, Tristana. Cazzo, Tristana. Cazzo, Tristana. Cazzo, Tristana. Mi vogliono fare... Il chiusino bot, cazzo. Ah no, qualcuno l'ho vettato, perché l'hanno vettato tutta la mia. Oddio! Freeze, anche me, anche me, anche me. Cazzo è successo? Ok. 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 Ah, buono! Ah, devo fare il batticinque di fuoco. Mi ricordo più come si gioca, mamma mia, non ci gioco da troppo. Non mi ricordo più un cazzo. Non si, ma è tutta una modalità comunque strana. E' questo? Vincere. Ogni torte di tempo nella mappa appariranno delle missioni da fare e i team si dovranno sfidare per completare quella casa lì. Ma che fai? Ma tu vuoi fare uno più uno qui ma poi non salti niente. Ok già. No! Ok, sopra è in alto. Ok. Ma c'hanno niente questi due. E' cavolo. Come on! E' un po' che vogliono ucciderti. Eh, hai visto tutte le persone, no? Sai, posso stare a... No, l'ho mancato come un idiota. La nostra gata è l'Eddy muovrava. Deleggio a un'idecente. Che leggero a un'idecente. Davide! Adesso ci sono anche un bot. No! Mi ha ucciso. Duvendico! Muori! Oh noiii! dopo PAM burasma burasma ninja mvc combini ninja vabbè nooo vabbè ovvio anti-cut vabbè 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 ho anche il blu adesso ho vinto sono bravissimo ma com'è che sei sulla mount? ahem ahem eh um io purtroppo devo usare un altro mili non li so usare ma che bello cook e lo butti al muro poi fai il E più tasto destro e fai il quattro si è vero avevo tipo la Q che faceva la bit solamente arcane e la bit con la Q che faceva un botto di danno vabbè tu blocchi quella e poi spari questo devi fare se poi vuoi fare no perché se metti lo spazio e fai i granitari più veloci non so se ti conviene tu temi quella che ti lanciava indietro e ti curava eh si forse tenevi il libro che curava quindi avevo cambiato qui bella coca merda quel cavolo di tentacoli non avevo ancora l'orologio mi ha petito posto dovevo prenderlo fuori mamma mia mi è piaciuto un bravo cosa c'ha vino cosa cazzo sto guardando cazzo 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 questo non è bene come stanno Emilio? madonna il farm c'è l'altro gioco c'è l'altro gioco è andato non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere ma sve.. io ho il mh.. ma riposto che l'ho lasciato ma l'ha un palo in culo sta match considerato che io non userò non c'è l'ho non c'è l'ho ma se lo vado bene non c'è l'ho non c'è l'ho non c'è l'ho non c'è l'ho ma io lo fai non c'è l'ho ma io lo fai è la big che tancava quella qui Mi ha fatto un po' di rinfo Guarda questa seggione Mettiamoci al nostro posto Ancora vivo quel cazzo di toko L'ho messato Ragazzi il supporto ci è arrivato in filo Che cazzo mi ha ucciso Sono andato No vaffanculo venga di merda No 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 Tutto a posto Uuuu No Oh Ok Quale build questa è? Quella del kit, non quella dell'acqua che è sciato Vediamo Vuoi che fa ruccapularsi? Che danno? Con l'uno ti cura Ah, col destro se uso il coso Queste sono quelle dello spazio? Sì, con l'ex dell'uno ti cura Ma vale solamente col primo spazio che fai quattro volte con il tram Vediamo se riusciamo di nuovo a picchiare porno Eh no, sono andato via Adesso, adesso, adesso Andiamo sul porno L'anime team claimed the orb Ce l'hai? Nooo Ah mamma Ma hai vissuto da poter avere il flash? Qui non c'è Mi sa che questo torno non sa come si usa Quindi va bene Io c'ero il flash eh Che appena si prega lo spazio non può fare tutto Certo Ah Ah Io pensavo che con quel fin evento standard potremmo cambiare No 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 Ok, GG a me Io so soltanto che ho tirato un critico prima Eh che pure è morta, hai bussato Ma che per il mio? Non è un po' No 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 Oh 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 mi piace di brutto sta modalità se si vince no tranquillo non c'è tanto le ultime parole famose ah doppia vabbè ah ah cos'è nato? facciamo l'ultima pain ok una pietra in testa una pietra in testa una pesta è la pesta una pietra in testa Ehm... Bla, 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 bla... Bla, 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 bla... ...dove sei? Eccoti qua. Oh no, no. Io posso mettere bla? Ehm... Jaimila, Jaimila! .. Vai! Spero che arrivo subito. Sono buggate le missioni. No, no. Buggate. Lay a game... Ok. E di giamila. Jaimila, mila, mila! Cosa vai fuori... che bella gemmina devi mettere Asuka così fate poco ghiaccio quasi diventare un Todoroki ah ha messo pallone ho pallone e OP bene se mi ricordo come si usa e ti vengono addosso per Q e poi lancio il lupo addosso e poi lancio il lupo addosso prendo il lupo addosso poi era la 1x2 poi faccio né tu né io NETTUNE 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 e fa paura mostra allora, dove giocare? torno su facebook pain eh ti sto pensando cosa pensi pain? qualcosa? blitzi dai, vado di blit non so perchè beh, io ti seguo con G in casa grazie 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 che cazzo sembra veramente quello di io da fine non vado bene ok se avevo già pensato a Don't worry my love ok ok è morto show me the booty the booty ok japanese shaman girl ok cazzo loro hanno lux e chogat in coreano si ha scritto qualcosa cosa significa traduzzi cazzo 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 Sì è normale anche cazzo quella... non pensavo di essere Otalia, non l'avevo proprio vista, ma non è perché... We cannot fail, and they cannot wait, and they cannot fail, and they aspire! Burasma Burasma! Minchia l'assassina è in nero! Plasma è Drago Bianco occhi azzur, io sono Dragoni Rocchi Rossi Eh io sono lo stronzo che ti devo dire... Onesto, onesto... Io cane! No tu sei screw the rules, I have money! Sei il caiba di tu No! C'ho creduto eh! Per dire che la bezzitava la furia! Ehi, no! Oh! Eh vabbè! Va ma che cazzo! Eh chi sei che uno schiatto troppo di merda! No! Questo game è uber perso! Gravissimo! Hanno quella Thalia che gli fa il game da sola praticamente, però a destra brava! E' un triplo dei nostri danni in quanto noi non abbiamo magici! No no no! Che cazzo fa? Eh vabbè! C'è un enemigo di magico che è... Pain! Ma è blitz! E oltre alla ulti non ha quasi a will! Ma questo non lo c'è lì! Ahia! Cosa è che dobbiamo fare? Nooo no no! Bruttissimo! Almeno qua è la patata! Ok! Ok! Burasma! Burasma! Parapam! Nooo! Farò solo un Beyblade! Beyblade! Boyblade! Beyblade! Ba-ba-ba-ba-bam! Mi mando male che eravamo qui con la nostra torre! Eh si! Mantanto la torre si sa! E' porca puttana Tokohana! Guarda! C'è l'altra San Montana! Porca puttana! Credo in te! Ce l'ho fatta! Vedi gridare fortissimo! Porca puttana! No! Lei! No! 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 Savoro! Che è tutto posto! Capo! Ero! Ce per morire! Ero! Koda kaza 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 kaza! Ah, neppure lei Eh, va bene, no, per cazzo, non c'è, non mi posso più rimanere qua io Fa troppo male quella Luxie Merda Porta puttana Ok, arrivo Porta dagli Se lo uccidessi quello, qualche miseria Eh, ma perché semplicemente non abbiamo un personaggio stupido così? Ciao, qualche miseria Nooo Merda Cazzo, l'ho rimasto sempre con un HP Se lo uccidino uno, ho dovuto focussare su quel cazzo di trocco Eh, hanno troppi CC Non abbiamo niente noi Ma noi ne abbiamo nulla Voglio vedere che un 3-3 contro 3, un 3-3 contro 3 Un 3-3 contro 3 Ne abbiamo nulla Ma io la batta il Royale La batta il Royale, la batta il Royale, la batta il Royale, la batta il Royale Taglia 5-1 Taglia 5-1 E' pesante, ed è pure giungla Dalla Vai via, dai Endurato Eh? Eah, calza 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 Non è vero Quelli stavano tutti giù Perchè stavano tutti giù? Ci dobbiamo fare soltanto una torre Ah, ok, si si Beh, ovvio, ovvio Guarda quanto è unito oggi Imo Ah, è brutta questa Ho dovuto far riparare qui Ciao Ok Focussiamo su qualcuno, andiamo su Reagon, eh Reagon Andiamo su Reagon, non lo so Reagon tanto non lo vedo capace Sperché è il salto Eh, però il problema è Quella meraviglia Cosa? 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 Oh, andiamo su Reagon, non ce lo vedo Ah, ok, tu dici che Sirius è incapace E su chi andiamo? Sirius 3, 2, 1 Andiamo su Sirius Sono morto Poi usiamo Sirius Io ho dei pulldown enormi È lei, no, ma non è quella È lei, è sempre lei, è Talia 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 che mi sta distruggendo Talia mi ha fatto il 72% di danni magici in Un secondo e mezzo Ok, sembra Chiffing Che Io Chiffing Chiffing Ah, io Enemies People Lec è morto? no, ancora morto no non muore mai a destra c'è la mia energia è un po' spercata ma che sta facendo quella? ma tanto è un po' solo un cazzo un po' full good secondo me dovevano togliere la mancia prima Ragon da subito come avevo detto perchè i primi match abbiamo vinto perchè l'abbiamo fatto fuori subito bravissimo no vabbè ma hai visto che Talia non è morta? Talia non moriva ma che cosa sta facendo? 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 vincere perdere perdere vincere adesso non ti ho avuto ma che cosa sta facendo? adesso non mi è vero e adesso non mi è vero un miliard e allora io vado avendo la cucchia le cucchiai facciamo la cucchia hop ho iniziato la cucchiai la cucchiai la cucchiai Oddio! Ehm... l'ho no... l'ho no... Ma mia ha one shotato sto... Smaish smash Hai guardato? Smaish smish No, no, posso più stare qua. Ho perso a metà vita, se sto morendo non so povero. Eh, taglia. Ragazzi ha perduto il match. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no Ciao Mi ha fatto partire con i battaletti iniziali Ma tu? Si però, ero in fk Allora Ho detto vabbè Sefalo 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 Si ma quel prog Ha giocato Allora come ti sposto No no Non molestarmi Aiuto SMASH Ti posso smasciare No Posso smasciare le Wai No Come no Mamma mia Posso smasciare le Wai Ecco qua Ma te la si è fatta da sola No Certo Cosa di controllo Questo qua Dobbiamo rimanerci dentro Aiuto Ma che cazzo Ma che cazzo ha fatto Ma che cazzo ha fatto Ma che ripestato Ma che ripestato questo Ma che cos... Porca puttana ahia rip niente sono appena stato one shottato tesoro è stato abbastanza fido a te e si 3 2 1 fight no shit shit maane si era questo qua no no era qua dove no io lo vedo qui non lo so ma che è sta cosa non lo so che cos'è sta cazzo enorme ah è un nexus che cos'è sta cazzo enorme cammina se ci distruggono il nexus abbiamo perso se ci distruggono sta cosa che cammina abbiamo perso oh 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 i a cosa non lo usi più? che merda! a testa piccola o l'uric no, non c'è un ultimo scasso con l'acqua vedi non lo usi più che no ultima no, sto scherzando testa piccola o l'uric ecco, anche tu sei ancora qui quindi siamo fuc si, me l'hai detto che c'è? preferisci che ti faccia così? aia ah, hai riuscito ai coglioni bello bello, bello mi piace vai ancora andiamo un party start vai 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 corri, corri no, 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 termina, 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 termina c'è... no c'è il discio no, 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 no si, c'è il discio c'è il discio no, non c'è qui eccolo ora puoi partare partore 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 neee e si quando è che me ne soggiassi mi scudo? eh, domani non c'è il discio no veramente domani no no ci sei rimasto male? ciao eh sì, abbastanza fa di sciolto allora domani faccio una pensata ok ok ma tu adesso sei stramutato, no? ma se tipo fai qualche roba e riesci a sistemare la animatore della prestigio, una diciamo X exeg centina exeg centina exeg centina perché non vincisce non tutto non ok se è il punto due C'è un po' crackbaccio. Ehi, ma ci abbiamo provato poco, non ti ricordi, dove ho perso 10 minuti. Vai, vai a giudicare 2. Ma cosa quasi duro? Non è vero. Capito, sto cazzo. Ecco, questo dovrebbe essere un primo a muro. Ma non abbiamo fatto le mani di tutti i cinti. Non abbiamo appunti di 2 e 2 e 2. Ti dice tutto bene? Sei uscito? No. Oggi pomeriggio ti ho visto, ti volevo invitare, ma eri già dentro in partita. Posso spostare con la pancia. Smash everything. Vedi, vedi. Davvero spostare? Ah, ma ci sarà un altro smash. Smash! No. Potete fare il tunnel. Mi un più. E' un'accaparo con il, c'è un'accaparo. C'è un'accaparo. E' un'accaparo. buon lavoro ok ok usi bene usi bene 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 non seguisci non seguisci non seguisci ok non seguisci non seguisci magari un giorno ti spiegherò il real MLG Quickscoper ma chi ci sta? ci sanno i francesi kawaii ah c'è pure African Baguette African Baguette African Baguette ma non mi ha provato tu non lo so ma si buon un 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 pai l'ai un 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 il un Cosa che mancano? Oh, su smart 0 per qualche motivo Così sta scendendo nel personale Cosa? Cosa? Sì, i taralli sono... No, no, lo so, sono molto caratteristici No, no, sono tanto molto caratteristici Oddio, sono diventato... Eh, non quelli stramari, quelli stramari Ah, quelli grossi proprio Ah, quindi mi stia dicendo che sei grossi Capito? No, sei maffiata Fa anche a 7 velocità diverse Così mentre stai, capito? Vibratura Sì, tesoro è... Cazzo... Cazzo... Sì, te lo so... Sì, te lo so... C'entra, penso qua Mica, dove siete andando? Maa... servita? Più appoglio o retenzione? Cazzo... 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 Con la 15... Mi fa le vua in terra Ah, a me c'è lui c'è lo pucco E' sferanto Ho sferato la tua ascella, bravio Ah, cazzo... Hai visto la la faccia? E' quello che hanno fatto al piano. E' che plasma vermo stata fatta plasma. E' bello. Mi deve essere fatto allucinarmi adesso. Insomma... E' un'altra vera? Ah, voglio cambiare, voglio mettere un pochino oggi mongo. Ma su una bloda di tap genocide? Non è stato messo un pochino. Tap genocide, tap genocide, tap genocide, tap genocide. Dovete cambiare qualcosa voi, no? Ecco, bravo. No! 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 Sempre la volta, ma sempre. Cos'è che ha fatto? Cos'è che hanno fatto a giorno? Quello! Si, si, regenta. Ok. Eh? Pezzini di mezza, si, scusami. Con la palanza nuova. Invece di mezzarsi, per avere un cooldown. Ok? In 10 secondi. Il cooldown è stato rimosso e... Il... L'esperienza di ritorno al 20%. L'esperienza di ritorno al 20%. C'è un tipo rimosso, eh? Eh? In intento è... Il cooldown di Grigio, ovvero... Non è più dimezzato il cooldown, ma scende al massimo di mezzo. Ah! La senti qua! In cambio, è permanente, cioè non ha il cooldown. Hai visto che il cooldown, scusami. E' un cooldown. Bene, quella è stata la balance? No! Allora... Ti ricordi il mio sto, dovendo vecchio? Sì... Che durava un macello, madonna che bello. L'hanno rimesso. Uh! Quindi abbiamo scusato 42 secondi di Trionfo e prendono le secondi di Gila Drive. Nooo! Quanti pochi HP! Era morto! Però hanno tolto gli HP, o sbaglio? Abbiamo... Abbiamo anche... Trionfo e... Gila Drive che adesso hanno il... 20% di affarcoloni e diretti. Ok, alleluia. DG. Sì? Andiamo via, andiamo via. Adesso è quanto? Meno 40. Oh! Potete iniziare via, no? Ah sì. Che porcata! Quelle forte! Sì. Io le do. Sì. Io le do. Sì. 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 Dov'è l'ultimo? Sì. 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 hew! Mamma mia... ...quanti soldi ci sono fatto. Oh nein. Vabbè. Più il mega drago... Bravo. eh vabbè 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 Sì, ma me l'ho spiegato anche lui malissimo, perché non ha fatto nemmeno in tempo di dividerli a... No, 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 blasma, blasma! Ma Luxy, no, non dirlo! Fetiscio! E ho capito, bro! Non dirlo! È una cosa brutta che stavi per dire, eh! E... Poi al discio, cazzo! E per dire una cosa brutta, è un biscio! Comunque per me! Eh, sono morto! Eh, io tutto ho pure provato a salvarti! No, no, il Knight! Ah, ok, eh, ricco! C'ho tutto l'ho detto, c'ho pure provato! C'è... 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 No, no... Ah, perffta... C'è... стupido C'è... Allora, perchè... Sì, sta per non dire rompere. Guarda come arrivano e se ne vanno. Ma oggi un mogo non ti riesco a spostare. Nooo, si è... Ah si, un po' che non ti sposto. Non si, non ci si, non ci si, non ci si! Oh no, sta per arrivare l'evento. Oh mio dio, dobbiamo pushare il carretto. Sta giusto 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 giusto. Ecco, io ci ho fatto a tappa tappa. ... L'assiettivo non vedo Non sono� suficiente Ok dai No, 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 sembra non la sciatela Eh, io sono campo base, campo base Perché quella minarcia? Più di più antichi passiamo Dio, sto item è ovvia merda Uhhh, like here and you have to lower the volume of Ayana Hi beauty Perfect I'm dying 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 It's impossible to escape from that bastard I can't do anything I'm dying sta arrivando col lì era un po difficile non l'ho messo in baccheco scusate mi ho letto quello che ha scritto ma che cazzo no quel coso con ti one shot e ti one shot non ha senso mi sto facendo la zonia beh mi sa che me la faccio anche io ne avevo 30 invisi oggi vedo ma visto 36 30 roti 37 ma i reper asciugui cioè comunque penso che devo vedere quella nerverena ah però cazzo devo cosa credo che 3 tra anche per non 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 vediamo di nuovo con stare rook mi sa eh ma rook è stato facile farlo perché le altre due erano su di me abbiamo un'altra bocchia, aveva sprecato uno spazio, che purtroppo se mette una trappola con lo spazio se ne va prendi secondo me devo mettere la trappolina dopo che ha fatto lo spazio così metto la trappola, consuma il counter e si va a merce ad us adesso no adesso no Ok oddio che cazzo di combo che cazzo di combo che abbiamo fatto anche io si arrivo anche io non ma la scuola ma non è arrivato oggi no lo volevo uccidere quel figlio come sto anche che noi il figlio di puttana lo so per uccidere Stavo per riprendere la mia vendetta Ma come era la per scrivere a tutti? Eh? Ah, te l'hanno uscita Cosa hai fatto? Io ho fatto il 75 Eh, le mie cure rimangono basse E' un brutto livello E' un brutto livello Ci sarà tempo che se mi possano di nuovo E' la mia soldi Madonna 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 E' un brutto livello Cazzo di buon botto 5 Buon botto Buon botto Buon botto Buon botto Buon botto Buon botto Ah, cazzo, cazzo, non devi volare per il posto. Potem c'è non l'altra, eh? oh god is that fuck your face mamma mia ma your face è stata bellissima sai cosa si dice in questi casi allora io ho una frase ricorrente su come dire alle persone di essere assalti e oggi ha raggiunto l'apice dove tipo io li faccio dall'altra parte del team ma sei per caso l'oceano? no perchè questo spiegherebbe quanto sei salato e prima era ma sei salato come l'oceano? mamma mia però ci è rimasto malissimo eh con his death fuck your face fa male cazzo fa male e non se lo aspettava secondo me si aspettava di fare oltre anziché con questo per questo mai parlare prima vincere tutte quante mica penso di cazzare le persone ci fa meglio ok qua avrò un rigolo che mi sarà le calcagne ok qua avrò un rigolo che mi sarà le calcagne ok 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 Ah, che sapevano se si si vuole un po' di risultato. Posso andare a tempo al carri di livello? Cioè il labo adesso non c'è nessuno. Io pulisco tutti i settori e poi ai boss ci metto un monte. Ok. Anzi, non faccio danno ai boss. Cioè il attivazione? Tutto? Beh, non c'è l'ho, ma non c'è l'ho, ma non c'è l'ho, ma non c'è l'ho. Ah, io ho sono content. Io non c'è l'ho, non c'è l'ho. Non c'è l'ho. Non c'è l'ho. Non c'è l'ho. Cioè l'ho inteso la anemos. Non c'è l'ho inteso. Anemos. Pabulosa. Non c'è l'ho inteso. Non c'è l'ho inteso. Anemos di riposo. A presto Aiuto! e ha fatto un bagno nel salato dove ti sposto sei? aspetti il muo aspetti fa culo grazie di me questo è ok pausa mi sposto ok sto giocando troppo qui guarda è morta due cchettinate giocando ok 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 no no grafiat ok si è morta E' molto l'asca D'acqua, che schi... Non mi to' aiuti... Se te fanno con l'asca... E' molto l'asca Socorro Pagana 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 Sempre saldì Oh, non lo faccio Oh, non lo faccio Oh, non lo faccio Oh, non lo faccio No, poco su di nuovo Non trovo Magic banana, che potrebbe Non lo faccio Ficcaso Ok Ok Non c'è Non c'è Oh, come si è morto? Ok, non è vero. Ok, non è vero. Non è vero. Non è vero. Oh. Non è vero, ma non è vero. Oh. Ok, non è vero. Non è vero. Ha benvi. Ok, scosh. Ok, scon. No, non è vero. è vero. Ma... Ahi... 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 15. Cioè ma dovremmo essere fuori il cilinistero Vabbè Sì 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 One we all Ash Ho chiamato Ash, che io mi ho fatto Ash Perché non ho finito di dire Ash, perché non ho detto Ash Il mio nome è Ash Questo è il nome del cattore di Poker Antenna Sì Hold it Andiamo la skill di Ash Spero caffetta Zatto Mamma Giù morto Mamma Non è Hai Posso vivere Juni Ma non la fai, non ho capito Non la fai Sono vivo Sono vivo Asci 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 Ah ma io basta viate proprio qui Che posso mettere Gide Ah Non mi do una ginta cosa succede Il tempo di metterlo Il tempo di combattere Ancora le salve Ancora le salve Del tempo Ancora le salve Lo salve Amma A Mancora le salve Grazie a tutti. Che cazzo fa? Quanto stacca hai fatto oggi? Un e mezzo. Ok. Eh, bisogna... Eh, io ho fatto passare a volando ora. Eh, io perché... Eh, dimmi. Eh, che cazzo te ne ho? Eh, io perché ho solo un PG tantino. Un e mezzo. Un e mezzo. Perché ho detto un smazzino. Due. PG le ho fatto due stock. Complemento. Complemento. A mezzo. Pagner fa dove stacca hat su. Sì Non è un peccato, non è così. E' un po' senza il suo spesso. Ma l'aiata! Ma l'aiata! Vabbè, non lo so! Cosa si fa? Cosa si fa? Ok, ora sta accadendo. Ma l'aiata? Espera! Faccio un po' di poi. Ho avuto. Già 2.000 fra l'altra. Un po' da 3.000. Nice. Non è un cappettissimo. Ah, sta scritto di me. No, revamp. Avuto. No! io sono 15 stack comunque ho conto che c'è un 10 giugno facciamo una stack al giorno lo facciamo indietro ci mettiamo almeno mettiamo la misa ma te non hai modo di fare un altro giudadro? no eh va bene scusa i tuoi altri ah vabbè che se ne prego eh si ok adesso no adesso che si può fare tutto manchi tanto con la con la sempre spesso che arrivi eh dai il buff se lo posto vabbè 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 giorgio giorgio ha fatto ovviamente la build è un po' merda si fu cazzata con la dv adesso sono arrivata a 1.46 non vabbè non non vabbè 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 se vabbè quando tiene schifo si scatti vabbè quando tiene schifo vabbè che vabbè quando tiene un Sister se essa vabbè vabbè si vabbè vabbè si vabbè 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 l'applauso per stranieri perchè? ok in questo caso abbiamo ui tutto il gruppo non sto in posizione dovrebbe essere nice e non hai altri pg? già completi io so se il diciamo ma il diciamo e allora a posto va bene ma no domani non lo facciamo se ne è quello ok uno tocca uno tocca uno tocca uno tocca tra cinque giorni niente che bello il root ne metto solo i root me ne metto ma ci root me ne metto ancora ancora al prossimo vittoria quindi ok io cosa posso mettere perché non lo so 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 brillo io ce ne ho non lo so non lo so non lo so un'altra parte la parte e poi bisogna trovare la parte della GE per anche mettere e quindi e poi andiamo a trovare un'altra parte e poi scelgo non mi raccoglio se si i i i i i i i i Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 regulations. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un'altra cosa? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Super Ash. Mi provo a essere occupate perché non me lo so più. Ma è lento. Grazie a tutti. Un po' lento. Adesso una GM è un PG6100. Un po' lento. No, loro no. Un po' lento. 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 Allora, io attimo un controllo di cilda. E' una una, se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto l'altra gara. L'altra metodomana. E' una, se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene. E' una, se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene. E' una, se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene. Se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene. E' una, se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene. Se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene. Se l'ha sfrutto bene, se l'ha sfrutto bene. E' una, 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 se l'ha sfrutto bene. Grazie. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ah, non va sempre l'altro, lì. Ando davanti così, prima o poi la trovo. Trovo mille round. E' difficile. Eh, vorrai. Un fallo achievement. Uff. Uff. Arrugà empere. Hoi. Uy. Ah Ah Sì C'era il blocco. Cos'è sto colpo? C'è la fine. Non c'est pas un peu. Non c'est pas un peu. C'est pas un peu. C'est pas un peu. Il faut que tu puisses. Piquatade! Sì si no si no si no si no si no si no ma quanto ma quanto 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 è che il problema si no si no ovviamente quando ha un doppio fine no 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 ahmet balla mi dispiace ma preferisco il discio a questo punto tutti preferiamo il discio è quello che ne ha il discio no no tutti vorremmo un discio in casa si non 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 c'è ancora il discio c'è ancora il discio c'è ancora il discio il discio è stato marciato dai 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 Oh Perdi ci patto, che tu mi arriva in po Ah 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 Anche oggi si troppa la puoi domani E' importante il drop la planteron Sì ora solo abbiamo un po' quante ranze senza averla droppata 149 Oh Ci sta, ci sta Vaffanculo Ho trovato Oh 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 ma rivolto? no scusa mi sembra strana vanno così tanto è viva non so chica non so non so che bello che bello che bello pappa Sì Ok, lo faccio con paz. Ok, ok. Come on. Eh... Right here me are. Since... No 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 Ah Oh Oops I'm proud I'm proud of you I'm proud of you I've got to do that Oh I've got to do that I've got to do that I've got to do that But it's pretty cool Oh, you got to do that Oh, no Oh There was a trick oh ah non ho fatto questo non ho fatto lo shini what the fuck ecco qua shiii che bello facciamo una prova è bello se si vuole dire le cose ho venduto meno e se c'è un servio non ha meno di 600 e 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 mi tocca aprirlo live ho capito mi tocca aprirlo live ho capito la tecnologia cosa questo per quanto mi interessi tantissimo e 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 oh boy e 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